Buonasera e benvenuti alla TG Norda. In primo piano le dichiarazioni del Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, che oggi ha tenuto una conferenza stampa a Bruxelles dopo aver incontrato il Presidente della Commissione Europea, José Barroso. Andiamo dunque a sentire alcuni stralci della conferenza stampa, a partire da, quanto detto, in materia di giustizia e questione carceri. Io mi ero posto dal Ministro dell'Interno non solo all'amnistia ma anche al cosiddetto svuota carceri, cioè all'affidamento che era una misura deleteria che purtroppo si sta discutendo adesso. Sostenuta dagli allora, è sempre così, il Ministro della Giustizia dell'epoca, prima Alfano e poi chi è venuto dopo di lui, sosteneva la necessità di un provvedimento per trasferire il soggiorno ai domiciliari chi era in carcere per gli ultimi sei mesi, a prescindere dal reato tra l'altro. Un reato di omicidio, un reato grave, mancano sei mesi però li devi scontare in carcere perché sei ammazzato delle persone. E io da Ministro dell'Interno mi ero sempre fieramente opposto perché avere 20-30, come si sembra adesso la stima, 60.000 persone agli arresti domiciliari vuol dire impossibilità di controllarli. È inutile dire li controlleranno polizie e carabinieri, non ci sarà nessun controllo, tecnicamente non è possibile, non ci sono le risorse umane e finanziarie per fare il controllo. Vuol dire farli uscire anticipatamente, è un condono vero e proprio, quindi io mi ero sempre opposto. Mi auguro che adesso il Ministro Alfano, Ministro dell'Interno, tenga questa linea di rigore perché altrimenti vuol dire che i crimini aumenteranno. Noi su questo stiamo facendo le barricate in Parlamento, la Lega è l'unico partito che le sta facendo perché siamo assolutamente contrari. Figurarsi l'amnistia, peggio che andare di notte, non esiste al mondo che ci sia un'amnistia. Noi siamo per Abele, non per Caino. Noi difendiamo le vittime dei reati, ma soprattutto difendiamo i cittadini onesti e vogliamo evitare che diventino vittime di reati. Amnistia e indulto, andate a vedere le statistiche, io le ho seguite molto bene dal Ministro dell'Interno, quando c'è un provvedimento del genere sempre c'è un aumento dei reati, è fatale. Il problema non può essere il sovraffollamento delle carceri, lo diciamo da dieci anni, bisogna realizzare nuove carceri. La certezza del diritto vuol dire che io ti condanno a dieci anni e tu stai in galera a dieci anni, meno le riduzioni derivanti dai benefici carcerari. Ma non esiste al mondo che io ti metto fuori prima perché non ho spazio per tenerti, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Quindi noi su questo siamo radicalmente contrari. Io sono per il rispetto, io contesto la Ministra non perché è la Ministra, ma per le cose che dice. Io contesto le cose che dice nel merito, io non sono d'accordo con le cose che dice. Detto questo, la mia è una battaglia politica, mai personale. Io non faccio mai questioni personali. Chi fa questioni personali ma anche chi fa attacchi personali sbaglia. L'ho già detto anche nei confronti di Borghezio e quindi non ho nessuna difficoltà a ribadirlo. Ho letto ieri di questa dichiarazione di questa militante del PD di Prato che ha detto cose che neanche Borghezio ha mai detto. Però non ho sentito lo stesso clamore nei confronti. Se l'avesse detto uno della Lega, bufera, telegiornali, aperture. L'ha detto una del PD e ha detto cose gravissime perché immaginatevi un po' ma io non voglio strumentalizzare la cosa quindi non mi interessa. Faccio solo rilevare questo. Mi sembra che ci sia una diversità di trattamento.